Oh no, non c'ho il party di... Ah no, eccolo il party di Axel, ecco qua. Vai. E mo' ci abbiamo le iconcine dei ragazzi. I iconcine dei ragazzi. Ah, regà, io tiro dritto, eh. Vai Ale. Ci siamo? Ci scappa la rissa? No, non faccio bet, ragazzi, perché sennò veramente con tutti questi cosi dei ragazzi ci mettiamo sei giorni. Pronto, brother? Pronto? Prime, please. Torre Smith. N-C-S-P. N-C-S-P. Un brutto inizio per il mio amico. Torre Smith non ci siamo proprio, però, eh. Per me è W. No, non è W, perché costa quanto la sfida, se non meno? Quanto costa sta sfida? Allora, la sfida costa la bellezza di... 234 mila... Crediti, questo non è worth. Pronto, brother? D'è nato? Eccolo. Vai. Oh, World Cup, Brasil. Beh, Petit è carino. Petit è carino. Prezzo? 4 e passa. Ah, questo qui è già solido. Poi l'ho pure provato e ti dirò, non mi è manco dispiaciuto sto Petit. C'è un nome, questa è una bella... una bella win. Questa è una bella win, è un bel pacco. Posso dire una cosa? Vi iscrivete al canale? Ma volete iscrivervi al canale? Il 40% di chi se guarda i video non è iscritto, ma ve volete iscrivervi a sto cazzo di canale? Puttana Eva. Ho controllato l'altro giorno, ho visto che il 5.1% è donna, il 94.9% è maschio. Affida è una mignotta, ma ve volete iscrivervi a sto cazzo di canale? Però vorrei, regà, vorrei tipo trovare il fenomeno. Vorrei trovare un fenomeno. Tortellini alla di bala? Lo sai che te meriti? Te meriti in berpele, brother. Che ne pensi? Sei pronto? Il frene. Il frene è tornato. Iconamedia, Prime o World Cup? N.C.S.P. ragazzi, non ci siamo proprio. Ma allora mi è andata di Cristo a me con Cafu Mid e... e quell'altro? Ma regà, ma Pirlo Mid, ma cioè, ma che cazzo ce fai con Pirlo Mid? Dai, brother man, dai, una bona tra tutti voi ce dovrà sta. Almeno un paro, in realtà. Ma lo sai che te dico? Io qua fillo una bandiera brasiliana. Io la fillo Brasil. Vabbè, questo è win. Questo è buono, vero? Garrincione World Cup è very good. Però mi sono cagato un attimo sotto. Prezzo di Garrincione? Eh, sugli 800, 900. Buono. 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 Bene così. Eh, poteva essere il fenomeno che sì. Infatti mi ero cagato un attimo. Ho detto, porco di eccolo, che arriva. Dasci le quote. Zanone, dasci le quote. Ma che è? Stemma del Catania, cioè, sta... sto gruppo. Sai che non l'ha messo Axel, quello stemma, non so perché. Dai che za forza magica, forza Roma, brother. Lo sai che te becchi qua? Te becchi olandese a ti. Non te dico chi, però è olandese a ti. Dai, raga, ma sono talmente tanti i giocatori, no? Ma sono talmente tanti i giocatori. Ma perché sto Pirlo? Ma a parte che non è uscita manco una Prime per ora. Cioè, per ora non ho visto neanche una Prime. No, Pirlo, il Prime è 92. Non è possibile che non abbiamo ancora trovato una Prime, scusa. La faccia dell'olandese, eh, oh, è andata così. Meglio sto logo. Grande Axelone. Yashin Mid. Cioè, manca il Prime. Manco... Manco col cappello. Manco col cappello, zi. Male, male. Brutto vero senza il cappello, raga. Senza il cappello è brutto vero. Vai, Teo, vai. Prime, per favore, uno qualunque. Prime. È Prime. Prime è Prime. Però è Raul. Vai, vizietto. Workup 88+, ci siamo. Allora, io voglio... Qua voglio Workup, però. Invece non me lo dai. Hernandez Prime. Boh. Non lo so, eh. Poteva essere solo Gullit Mid. Poteva essere solo Gullit Mid. Perché il Prime è a T. Willy Wonka. Che non è male Willy Wonka, eh. Però. Vai, mettete share quando volete, boys. Oh no, regà, sbaglio. Ah, regà, sbaglio. Abbandonare la nave, ragazzi. Ragazzi, abbandonare la nave. Abbandonare la nave, ragazzi. Abbandonare la nave che si è buggato lo share play. Vai, vincei, grazie ai quattro. Ma infatti sì, ma che faccio? Difendo io, frate? Chi difende qua? Park e Nagata. Porco zio. Vabbè, ma che problema c'è? Mo se scula, brother. Non te preoccupa. Mo se trova... Boom. Jude Bellingham. Ah, regà, ma se trovo un toti anche a voi nei pacchi vostri, vale comunque nei toti trovati miei, sì. Iatta. E' il grande Ramsdale. No, come l'anno scorso. Vabbè. Discreto. Ok. Che ti apro, cancellò? Vabbè, tre centrocampisti di 81 o più, li apriamo. Porco Dio, stava a carica. Ero convinto arrivassero a ser toti. Ha visto quanto ci ha messo a fare l'animazione? Invece ci ha dato benna, sir. Tranquillo, cancellò. Giocatore raro, 84 o più. Ah, lo scugnizzo. Simpatico lo scugnizzo. Giocatori rari. Bella cagata. Qua scarti tutto. Pacchetto ultimate. Ammazza che schifo. Mamma mia. Grazie, cancellò. Ammazza che pacchio. Che cagata. Comunque posso fare... Posso dire una parola... Una parola per apprezzare un giocatore sottovalutato ma clamoroso, ragazzi. Stefan, il faraone e il sharawi, porco Dio. Apri solo pick, gameplay e sceno. Fabio Borini, inamovibile, mi hai ciccita così forte che fanno schifo. Ah, ah, vero. Fabio Borini però, pog. Solo pick quindi, ok. Anche perché c'è 100 pacchi, sì. Veramente sottovalutato il faraone. Ma poi ho un giocatore, regà, che quando viene chiamato in causa, sempre pronto. Se sacrifica, fa tutto e fa tutto bene. Pucchi. Ma dai, ragazzi, che picchietti rossi. Ammazza, frate, grazie, te ringrazio. Però, porco, due, ma che drop è? Ma che è sta morte? Ah, bella squadretta, frate, ammazza. Pulità. Ma questo c'hai non scambiabile? Le piazze in corpo. Che c'hai, l'Igon, c'hai? L'Igoncina. E dà c'è un bel brasiliano attivo a TT, va. Stavo per DDT e drop-ba. Stavo per DDT e drop-ba. Porca troia. Bella cagata. Questo tu dai dritto un petto. Defebbrato za. Ma con moltissimo piacere. Prime, please. Maradona. Vabbè, Zanetti Prime. Non c'è sta mal lamentato. Poteva andare a peggio. Poteva andare a peggio. Eh sì, far CC, quindi in realtà decente. Decente. Grazie, brother. The next day. Dai, sì. Dacci l'ultimo Dodi. L'ultimo Dodi della serata. Faccio i contenti. Mancava proprio lui all'appello. Mancava proprio lui all'appello. Due Messi. Due Benzema. Un Kylian Mbappé. 750 mila crediti. Cassa? Cassa? Vabbè, dai. Non mi lamento. Dai, non me lamento. 750 mila crediti. È come se avessimo trovato Pirlo. Vai. Un altro bellissimo attaccante Dodi. Voglio vedere se venerdì li trovo. Io venerdì vado hard. Io venerdì non mi controllo, ragazzi. Venerdì quando esce anche il dodicesimo io non mi controllo. Ultimo pacchettino? Ultimo pacchetto. L'avevamo provato. Ale! Un altro! Vabbè, sono l'ultimo due ormai. Ormai è finita. Vabbè, regà. Dodi al primo. E all'ultimo. Andrea! Pirlo! Let's go! Completamente a caso senza l'animazione. Il maestro! Il maestro! Si gode! E andiamo sul 3 a 1. Per le Icon Todi. Che culo! Dritto nelle sodica il signor Andrea.